Siete pochi ma buoni, avvicinatevi qua vicini vicini così abbassa anche il volume e non rompiamo le scatole a signora Maria che abita là Per me ora va anche bene Un po' di caldo in spia Un po' di caldo perché c'è freddo Facciamoglielo un applauso a Sergio Un applauso a Sergio, il nostro fonico che stasera veramente se mi puoi andare un pelino Sì, sì, perfetto, grazie Signori, fare il fonico per una rassegna come quella di stasera è difficilissimo e Sergio ci è riuscito alla grande Un applauso per Sergio Bravi Un po' di collaborazione, ci sembra che siamo in pochi ci divertiamo ancora di più perché quando siamo in pochi cosa succede? Che si crea quell'ambientino intimo Quindi voi vi ricorderebbe negli anni 80 c'era una trasmissione televisiva si chiamava Non mi ricordo come si chiamava però la sigla era Super Delegatone a un certo punto c'era un gatto che faceva Miau Pronti? Lo facciamo tutti insieme Super Delegatone Miau Super Delegatone Miau Super Delegatone È pubblico poco reattivo però è comprensibile perché siamo al termine della serata quindi sarete stanchi Super Delegatone Super Delegatone Come tutti i gatti Vivo soffredenti Appoggiato all'antena centrale Io controllo La tv locale Sono il gatto sul tetto che la sconda Tutto come fosse la prima volta Oh no La carta è offensinata Solo una mia domanda Senza me caldo C'è chetto Lo sarebbe Che ho un detto Super Delegatone Miau Super Delegatone La foto di voo Il bambino Su Gu Gu Dotti più Gu Devo ne un po' Se vi piace chiamateci Bilama Signori abbiamo Matteo Stiano Come tutti i gatti, vivo sempre i detti, appoggiato avanti nel nostro cuore, io controllo la tv locale. Sono il gatto su un detto caso, tutto come fosse la prima volta. Paolo, la canna che ho insinata, sono una mia prodata, senza me trovo cecchetto, non sarebbe che un bufetto. Super delegatone, super delegatone, con la fata di lui, la figlio, 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 la figlio. Se vi piace, chiamateci! Se vi piace, chiamateci! Signori, pochi ma buoni e i più belli di Guspini! Un applauso all'organizzazione di Radio Supersound, Giuseppe Nottis, grazie per averci invitato, grazie al service, alla pazienza dei tecnici. Al piano, maestro Matteo Scano! Disco, disco dove io sono veramente io, è fantastico, super fantastico, è la dimensione che mi fa vivere con te, l'avventura che sta dentro di me. Disco, disco, mamma mia, tutta la malimponia, che è la tavola, la super tavola. Dove sto con Memorate, dove vive i sogni dei, sono i principi e per solo che mai. Mamma mia, mamma mia, ci sono la potenza, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, dico, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. 1, 2, 3, 4, and you have a lot of fun. I didn't see you really much before. Thank you very much, ci stanno smontando il balco da sotto i piedi, ma non fa niente. Disco, disco dove io sono veramente io, è fantastico, super fantastico, è la dimensione che mi fa ridere di te, L'avventura che sta dentro di me Disco, disco, mamma mia Tutta la malittoria E la tavola La super tavola Dove sto come vorrei Dove vivo i sogni miei Sono il principio del turro che fa Bambina, bambina Sing a love and dance, bambina Bambina, bambina Disco, mamma mia Bambina, bambina Bambina, bambina One, two, three, four And your hands have more I can see you made it up before I can see you made it up before I can see you made it up before Signori Al piano Maestro Matteo Scano Un applauso per lui Dai Avvicinatevi Dai che stiamo per concludere Qua a tutti sotto Che adesso Viene il bello Dano, dano Mi chiamo mor Su nuovo vengo daor Y para cuor Ora saluto tritur Naro, dano L'acqua a mano Naro, dano Apri il piano Naro, dano Ora è franco Naro, dano Ora è franco Sorinitù Se dormo A testar di più Se prendete Non proprio Come fa in te Naro, dano La tua mano Naro, dano Apri il piano Naro, dano Fatti un po' Naro, dano Ora è franco Ora che mi sei amico Non tu più mi senti Come lo vanno con le case E viene delle palle E come tu dallo, dano Mister Matteo Scalo al piano Non più da voi Mi trovo bene che vuoi Io posso Se ci ritornò su Naro, dano Naro, dano Nan, dano Nano, dano Fatti il piano Naro, dano Nano, nano Nano, nano Nano, nano Nano, nano Nano, nano Grazie! Qua c'era il pubblico, un applauso adesso, si sarebbe sentito, però grazie il nostro amico, grazie, grazie, guarda, dopo fatti pagare da bene da lui, ok? No, l'abbiamo già conosciuto, è troppo topo, va benissimo, allora noi a questo punto, cosa dobbiamo fare? Non ricordo più, allora, sì, sì, abbiamo ancora due canzoncine da fare, quindi, oppure facciamo direttamente quella per i bambini, perché i bambini poi devono andare a letto, ci sono dei bambini, non ci sono più? Le chiamiamo in causa, dove sono le bambine? Sono andate a mangiare un piatto di tagliatelle fumanti, forse? Non ci sono più le bambine, quindi ci hanno abbandonato, allora facciamo le simpatiche, no? Signori, allora, siamo rimasti in pochi, quindi noi riviro ringraziamo per la pazienza che avete avuto ad aspettarci fino alla fine, noi siamo in filama! Allora, signori, me li presento, Rubol, un attimo la sera, presentatore, Marco Abis alla chitarra, Fabio Bellia, al basso, alla batteria, mister, cinecologo di professione, batterista per ovvi, Roberto Colonna! E alla tastiera, al piano, senti chi c'è? Maestro Matteo Scano! Grazie, grazie di averci invitato, è stato per noi un onore stare qui stasera per questa causa, per la casa di cura Santa Maria Assunta, speriamo che vada tutto bene e noi vi salutiamo con questo brano! Grazie, grazie a tutti! Grazie, grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!